E' un'altra cosa. E' un galletto. Non avevamo così tanto dinero, solo avevamo sufficiente per alimentare. Non credo che l'ambizione di George fosse quella di restare nei Beatles per tutta la vita. Come succede in un matrimonio? Ci si ama, non ti sopporti più. Sapevamo che aveva raggiunto il massimo. George amava circondarsi di persone che avevano un'abilità in qualsiasi cosa. Si potecò la casa per riuscire a finanziare il film. Credo sia il biglietto più caro mai pagato per vedere un film. Beh, abbiamo bisogno di fare qualcosa con le nostre vie. Era appena tornato da un nuovo viaggio in India e mi dice... Ho una canzone in 7 e mezzo. Avevamo molti gusti in comune, come le auto, i vestiti, le donne, ovviamente. Se qualcuno gli avesse detto, puoi avere tutto nello spazio di cinque vite oppure puoi avere tutto in un'unica vita, lui avrebbe risposto, scelgo una sola vita. La gente sempre dice che è la mia vita più cambiata, ma in realtà è quello che vedo la vita. Tu devi cambiare.